Amici di Bazz, un attimo di pausa nella natura tra una tappa e l'altra del nostro tour in Emilia Romagna. Abbiamo alle spalle le tappe di Ferrara e di Bologna, due grandi successi del documentario di Rossi e Zollino sospesi per cui ringraziamo davvero tutti voi. Adesso mi trovo in questa cornice della montagna del Bosco Modenese per tirare un attimo di respiro ed essere pronta e scattante per l'ultima tappa del tour in Emilia Romagna che si terrà a Piacenza domani sera, lunedì 15 maggio alle ore 21 e 30. Ma prima di proseguire queste ultime ore di relax che mi separano dalla prossima proiezione di battito, voglio darvi l'appuntamento sui nostri canali ufficiali quindi Facebook, YouTube, TikTok nonché i canali Telegram, quello dal nome BuzzBlog e quello dal nome Sospesi per aggiornamenti costanti sia sui nostri futuri appuntamenti sia sul nostro on the road. Buona fine domenica e buon riposo a tutti quanti voi. Vi aspetto lunedì sera insieme a Marcello Rossi e a Walter Zollino a Piacenza alle ore 21 e 30. Arrivederci a tutti. Grazie.